Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. Come va? Tutto bene? Oggi è domenica 19 marzo. Auguri a tutti i papà del mondo. Auguri, 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 auguri di cuore a tutti i papà. Allora, mi vedete qua inginocchiata perché ho il telefono sotto carica perché siamo pronte per partire, per andare in montagna, nella nostra casetta in montagna, a 20 minuti da qua, per fare l'orto. Oggi San Giuseppe è proprio di tradizione incominciare a fare un po' di giardinaggio, orto, potare le piante, insomma. Il giardinaggio della primavera è di tradizione appunto che si incominci da San Giuseppe. Quindi Paolo è già partito, è andato già su un'oretta fa perché comunque c'è un bel po' da fare, prepara il terreno e tutto. Mentre io e Emma ci siamo svegliate da poco, abbiamo fatto colazione, io mi sono già lavata e vestita, Emma è ancora in pigiama da lavare perché sta finendo di guardare il cartone e noi lo raggiungiamo, ecco. Finito questo lo raggiungiamo e aspettando anche un po' di sole perché è veramente freschino, ma la mattina è freddo e il pomeriggio è caldo. Quindi aspettiamo che il sole spunti un po' di più dalla montagna per scaldare un po' l'aria e poi partiamo. Insomma, iniziamo a fare un po' di orto e non vediamo l'ora. Anche Emma è eccitata per questa cosa perché le piace giocare con la terra, inseminare. Insomma, è una cosa bella da fare con i bambini. Quest'anno ci siamo proprio decisi. Di solito fa un po' di orto la nonna, la mamma di Paolo, ma adesso poverini stanno iniziando ad essere un po' anziani, quindi non riescono più a starci dietro come un tempo alle cose. Quindi quest'anno ci siamo proprio decisi, io e Paolo, ci prendiamo questo impegno di tenere l'orto. È un po' lontano da casa nostra, quindi ci vogliono 20 minuti, però io comunque vado su spesso perché essendo turistico ho partenze e arrivi ogni settimana, se non due volte a settimana, insomma dipende, e quindi vado su spesso. Di conseguenza viene su Paolo anche con me, quindi facciamo due cose in uno. Poi ogni mattina il papà di Paolo è comunque su perché c'ha su gli amici, si fa l'aperitivo con gli amici, due chiacchiere, si vede con gli amici praticamente, e quindi darebbe da bere tutte le mattine all'orto. Quindi siamo abbastanza protetti in questo e ci siamo decisi. Quest'anno ci vuole proprio l'orto. Io ho bisogno delle verdure nostre, saporite, che sappiano di verdure, non quelle, tutte uguali, fatte con lo stampino da supermercato. Per quanto io provi a prenderle biologiche, sono tutte uguali, ti stanno una settimana in frigo e sono tali uguali. Voglio la mia verdura. È vero che voglio, non si dice, ma vorrei la mia verdura saporita come sono cresciuta, perché sono cresciuta con l'orto e vorrei continuare con questa tradizione per Emma, soprattutto perché veramente le verdure del proprio orto sono sempre le più buone. Poi non le diamo su né veleni, né un po' di concime, ma concime naturale. Niente porcherie, ecco. Quindi noi siamo fiere del nostro orto. Ecco qua è arrivata la mia piccolina. Pronta? Hai finito il cartone? Sei pronta ad andare a fare l'orto? Eh? Ti ho già preparato gli stivaletti? Eh? Oggi giochiamo con acqua, terra, pane per i suoi denti. E... E bom, dai, non mi perdo troppo in chiacchiere e basta. Ecco quello che dovevo dire, l'ho detto. Adesso preparo Emma e partiamo. A dopo. Ecco quello che dovevo dire, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto. Ecco quello che dovevo dire, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. No, dovrei segnare tutto questo no, vai spiegare la Emma. Siamo arrivati. Che brava, il papà ti fa la riga e tu metti le patate? Vieni qua il nonno. No, vai un attimo, giunga male a destra. C'è proprio la distanza giusta il papà. Ma guardala che brava. Vieni, vieni prima che il papà. Questa è questa che è la pari lunghi così, l'ho detto anche così. Ecco. Che brava. Forse però è un telettino più distante. Vieni qua. Vieni qua. a casa. Non si deve venire qua la testa in su? Con il butto in su? Non mi guardo, è uguale. Così? Noi di solito le vedo così. con la radice più lunga rivolta va in giù brava grazie a tutti 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 spinaci grazie a tutti 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 bellissima grazie a tutti 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 grazie a tutti